e partono Magrini resta leggermente indietro con H4 Glory ma la vuol prendere lanciata e questa volta siamo in finale questa volta ci si gioca tutto ma bisognerà correre sempre col senso di responsabilità in partenza ci prova Garnett LB a tenere lo steccato attaccato dal numero 2 Gabberi Giuse e poi all'esterno H4 Glory Garnett al comando Gabberi Giuse tre quarti di cavallo davanti e di galoppo il numero 5 Marlin Power con Simona Biagiotti al comando Antonio Terraneo con il numero 1 Garnett LB secondo la corda mentre sta venendo via Magrini Magrini dice che vuol passare ma viene anticipato da Domitilla del Barzo e si va via dritto e i primi 200 metri in 14 secco al comando e Garnett LB attaccato e in terza ruota H4 Glory Garnett non si passa dice Antonio Terraneo e i cavalli quindi al completamento dei primi 400 di gara con Garnett LB che ha desistito all'attacco di Gabberi Giuse e anche a quello di H4 Glory che ora è costretto a tirare e mi imbarca Gabberi Giuse che rimane largo lo infila all'otto di Matasdra Matasdra quindi che va a prendere la schiena di uno scatenato Garnett LB ma ora sta ritornando Riccardo Magrini che torna alla carica ancora in terza ruota H4 Glory ma trova sempre l'opposizione di Gabberi Giuse ma nel frattempo Garnett LB tiene andatura Garnett è attaccato dal numero 3 H4 Glory H4 Glory che punta dritto gira la bacchetta Antonio Terrario secondo la corda di Alessandrini con Matasdra ai primi 800 metri da 1,14 e mezzo si fa fortissimo al comando è ancora Garnett LB con H4 Glory che punta dritto e poi dietro c'è Stefano Alessandrini con il numero 8 Matasdra primo chilometro in 16,3 al comando è ancora Garnett attaccato ancora da H4 Glory Garnett LB quindi che resiste contro tutto e tutti Antonio Terrario motivatissimo ma nel frattempo sta facendo veramente un numero H4 Glory che per ora ha conosciuto solo seconda e terza ruota mentre in corda richiede il numero 8 il Matasdra viene via Idolo del Pino con Francesca Luciani attenzione sta venendo a bomba sta venendo a bomba ma Antonio Terrario al comando Antonio Terrario in retta d'arrivo Antonio Terrario sentiva la corsa da due giorni sta venendo su fortissimo il numero 4 Idolo del Pino se ne va Antonio Terrario alza la frusta butta il frustino addirittura Antonio Terrario che butta la frusta per l'emozione qui davanti alla postazione di regia sicuramente sarà stato un saluto anche a te Salvatore Garnet L.B. da due giorni sente la corsa da due giorni era costantemente al bagno ma adesso salta la frusta butta la frusta al cielo incredibile se lo sentiva Antonio se lo sentiva in questo weekend che finalmente ce l'avrebbe fatta vai Antonio quindi le congratulazioni di Carlo Soria per Antonio Terrario vedete che per il secondo comunque l'arrivo è veramente sgranato perché Garnet L.B. ha fatto veramente un numero Salvatore sia in batteria che in finale ha veramente corso alla grandissima sì veramente ha corso alla grandissima Garnet L.B. è andato al comando ha tenuto botta a tutti e così Terrario ha sfatato questo mito che lo vedeva mai al palo anche con cavalli favoriti stavolta ha vinto con un cavallo che paga 5,12 e che forse paga pari alla piazza e ha guidato veramente bene non ha mai girato il frustino cioè solo davanti alle tribune poi il retta d'arrivo ha buttato il frustino all'aria ha battuto ha battuto diciamo Francesca Luciani una grandissima Francesca Luciani che è arrivata a seconda un vedete in pista si stanno ecco vedete in pista la festa sta succedendo di tutto la festa sta succedendo di tutto perché tutti ad abbracciare Marcello Rattiche tutti ad abbracciare Antonio Terrario la sua gioia infinita per aver vinto una corsa finalmente era stato sfortunatissimo finora Antonio veramente ha sfatato veramente un mito sono veramente contento facciamo i complimenti vedete anche Vastano con i due primi con Garnet LB con Antonio Terrario che finora veramente aveva la maledizione di queste corse ma come appassionato e come sempre operatore del settore che si è sempre messo in evidenza anche per le migliori iniziative meritava veramente questa vittoria bene veramente dall'Ippodomo San Paolo è tutto ci sentiamo per la dodicesima corsa ma è stata veramente una giornata direi meravigliosa soprattutto perché abbiamo visto dei driver puliti che sono entrati in pista per divertirsi e non solo per vincere ma per divertirsi e per passare insieme il tempo insieme ai cavalli l'ultima frase la facciamo dire veramente a Carlo Solia che penso che si sia veramente divertito un grazie a tutto l'Ippodomo di Monte Giorgio soprattutto a Salvatore e alla sua staff e alla sua famiglia e verremo sempre e spesso in questo magnifico posto un grazie veramente grazie a tutti grazie quindi a Carlo Solia e grazie ancora a Salvatore Battì naturalmente siamo in diffusione solo sul campo ma questo servirà per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione tutti i driver improvvisati ma che comunque hanno fatto una gran bella figura lo ricordiamo che questa iniziativa come sempre a scopo benefico moralmente sono tutti vincitori quindi di questo trofeo delle stelle d'inverno la linea che torna quindi alla regia